Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraftita Allora stavo esplorando qua Scusate L'isola Che dovrebbe essere utilizzata per il villaggio E mi sembra che non ci siano Limitazioni A parte qui una caverna ma è Abbastanza camuffabile L'importante è rendere sicuro il tutto Come si crea una chiusura di questo E si illumina tutto Evitiamo lo spawn di zombie Perché lo spawn di zombie è il pericolo maggiore Perché come spawnano i zombie La maggior parte dei villager dopo Viene ritrasformata in zombie È un casino Se poi arriva il giorno di spawn È un casino Quindi bisogna evitare che spawnino i zombie Qui c'è un piccolo collegamento Penso che lo eliminerò Vediamo la palla com'è Però gli sticchetti è un pezzo di ferro OP sciat E eliminerò questo collegamento Perché Voglio fare proprio Una sottospecie di prigione di Azkaban No di Azk Cazzo dice Azkaban è quella di Harry Potter Come si chiama Oddio Ci hanno fatto anche il film Alcatraz Azkaban cazzo Tipo prigione di Alcatraz Voglio fare una bella isolotta Per i nostri amichetti qua Molto amici Molto molto amici Molto molto Cerchiamo anche di riempire qua l'acqua Grazie mille Ok Allora quello che farò adesso è Buttare giù ogni albero su quest'isola Ci vorrà un pochetto ma ne varrà la pena Così avrò il legno per fare le porte Per la struttura di contenimento E poi potremmo modellare liberamente Anche tutto il paesaggio Perché sarà praticamente Un'isola Completamente vergine Senza niente E quindi sarà Più facile Per me Andare a costruire poi le casette E tutte le cose del caso Pensiamo anche di fare qualcosa di più elaborato Tipo mettere anche un municipio Qualcosa tipo Carino insomma Carino Magari decidere Chi Chi è il Il Come si dice Il 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 No Il 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 sindaco Tipo E mettere perfino delle name tag ai villager Della serie Dargli proprio dei nomi Una specie di dei sims Minecraft E penso sia una cosa molto Molto carina come idea Penso sia una cosa molto molto carina come idea E Non so quanto ci riuscirò Perché avere tutte quelle name tag Sarà tipo Impossibull Impossibru Impossibru 1 1 Però L'idea intanto è figa Il nostro villager è ancora lì Mi avete suggerito di utilizzare le canne da pesca Per muoverle Mi ricordo che una cosa mi avete suggerito anche Tipo nella scorsa stagione Non mi ricordo se l'ho provato Ehm Penso possa funzionare perché non danneggia E niente La gente invece in generale mi suggeriva Ehm La Le led Cioè prenderle al guinzaglio Perché non si può prendere al guinzaglio Guinz Guinzaglio Il guinzaglio Ehm Il villager Perché come io clicco col destro sul villager Mi apre il trade E' questo il problema ragazzi E una volta se Era un multiplayer E un'altra persona Mi cliccava sul villager Io non potevo scambiare Allora potevo prendere per il guinzaglio Però ora come ora Hanno fissato anche quello Quindi non c'è nessun modo In cui io posso Ehm Prendere il villager col guinzaglio Guinzaglio Perché dico la z Debole Deve essere una z Non una z Guinzaglio 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 Z Z Zaglio Vabbè Finirò il resto Di questa avventura Taglialegna Segaiolo Cioè Ehm Fa il legname Tutto da solo Stupidi Enderman Il temporale C'è il temporale No no Una pozione di invisibilità No E' da tipo un mesetto Che non c'è un temporale In sto mondo Mi capita abbastanza spesso Ma è da un mesetto Che non capitava un temporale Mi chiedo Se mi convenga Ho il materiale per fuori Una pozione di invisibilità Per chi non sapesse Durante i temporali Cadono Questi Ah intanto qua Sono qui E sono abbastanza sicuro Che non ci saranno mob Perché l'isola è piccolina Quindi Ehm Non siamo nel raggio Di spawn Ehm Consentito Tipo Le cose possono spawnare Solo tipo a 16 O 32 blocchi Da 16 a 32 blocchi Lontani da me Quindi essendo piccolina Non ho troppa paura Dei mob qua dentro Quindi ci sto anche di notte Ecco Ho parlato Cazzo Uno spider giochi È tipo Ah no Non è il primo del mondo È il primo della nostra stagione Forse Sì Potrebbe essere Il primo del mondo Ehi senti Ok Ehi Ehi Cane Ehm Quando C'è un temporale C'è una remota Possibilità Una remotissima Possibilità Che Un fulmine Colpisca un creeper Rendendolo Un creeper Super Caricato E i creeper Super caricati Sono Una figata E Succede che Merda Non mi tocca Tornare per forza Ehm Succede che Quando ci sono I creeper Super caricati E tu hai una Pozione delle invisibilità Il creeper Super caricato Non ti vede Perché te sei invisibile Ovviamente Oh merda Lì c'è un bambino zombie Eh no Ecco il cazzo Io faccio il giro Vado al molo Ehm Qua ci sono i creeper Super caricati Tu sei invisibile Non ti vedono E li puoi semplicemente Catturare Come Come i pokemon Mortacci Che cazzo Qual è stato Probabilmente Mi son perso Lo screen più epico Che io potessi mai fare Tipo due What the fuck Ehi Non andrò a dormire Non andrò a dormire Te sei scemo Se io vado a dormire Quello cazzo mi capita Una roba del genere Andiamo solo a craftare Molto velocemente Un piccone di ferro E si piccone un'ascia Anzi anche due Perché mi manca più o meno Metà isola Ok Ehm Oddio Devo rivedere se nel filmato compare Perché se compare Quello che penso io È uno screen Epico 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 Ehm Ok ho del legno sfuso Interessante Ecco qua le mie due asce Intanto con tutto questo legno Per ora Possiamo posare Minchia quanto cazzo di legno Per se non ci facevano così tanti alberi Oh Oh Io però ho anche un po' di paura Perché se un fulmine colpisce il legno Io sono fottuto E infatti andrò a dormire Troppa paura Ah un'altra cosa che mi avete detto È che c'era un villager Ehm Per appunto nel villaggio Che vendeva Ehm Occhi di ender Per tipo 8 smeraldi Allora se Potrebbe essere una buona soluzione Quella di utilizzare Il Frena 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 Potrebbe essere Scusate una buona soluzione Quella di usare Il suo trade L'unica cosa è che Prima dobbiamo trovare Un Un trade Per quanto riguarda O la carta O qualche tipo di materiale Che Ehm O O Di cui ho il fun Facile Perché se mi esce fuori Ehm Ti do 8 smeraldi Per un orologio Allora Per un orologio Ci sta un paio di volte Ma non è che io ci vado a specare I stack Di oro Quindi avevo bisogno O di un librario O di Quelli là Tipo che ti danno Per la ladder Ti danno le robe Perché Ho una farm di muc Che cazzo Utilizziamola Ehm Comunque si Potrebbe essere Una soluzione Quella di usare Il Il trader Del villager Perché Dato che Di enderman Me ne spawnano un po' A cazzo qua E per a cazzo Non tenendo mai Gli uniche cose che vedo Effetti degli enderman Sono dei blocchi Messe a cazzo Da per tutto E mi danno fastidio Anche Quindi Guarda un po' Te Ehm Ok Non mi mancava Così tanto Come immaginavo Manca giusto un po' Qua sulla costa Ok 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 Lo finisco Off camera Ok L'isola è praticamente No Mi manca l'alberello Che fiore di merda Ok Come dicevo L'isola è praticamente Denudata Da Dagli alberi E Penso di aver trovato L'unico fiorellino Di quest'isola Proprio l'unico Ho cercato da per tutto E' l'unico fiorellino Presente su quest'isola Ta 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 L'unico fiorellino Quindi penso Lo teremo lì come tipo Non lo so Un monumento speciale Te sei Best fiorellino Eva Uno uno Ti ci mettiamo Vicino Non lo so Ma Sai cosa Ti riempiamo con il vetro Ti mettiamo il vetro No Ti rimarai qui For Eva Nell'Eva Ci mettiamo un cartello Eh si Ci mettiamo un cartello Bisogna anche trovare Un nome Come per quest'isola Tipo La prigione di Villagers No Che cazzo dico Di Alcatrax Alta Alta Cazzo Eh si Boh Non lo so Ditemi un po' voi Ormai il legno non è un problema Penso Eh No Giusto Giusto così Un Una piccola considerazione Non penso che il legno Divente Sarà un problema Per un po' di tempo Mettiamo così Allora Unico Fiore Unico fiore Come si dice Aborigeno No Che è lì dall'inizio Aborigeno Del luogo Aborigeno Unico fiore aborigeno Dell'isola Dei Villagers Down Pretty fucking nice I'd say Pretty fucking nice Ok Ora penso che Sempre off camera Perché penso Sarà una struttura Come nella scorsa stagione Quindi non voglio annoiarvi troppo E vi farò solo vedere Alla fine Vi spiegherò cosa ho fatto Però costruirò Il La struttura base Di contenimento In cui porteremo In cui porteremo Il villager Come cazzo La porto fino a qua Il villager Oh merda Non ci avevo pensato Cazzo Ok Ecco qui Ho Terminato Di mettere le porte Questa è la struttura Allora voglio fare Questa sarà La struttura Di contenimento Per ora In cui Farmeremo Villagers Non è ancora terminata Questa è solo la base Conto di abbassare Questo livello E fare in modo Che questa sia La parte più alta Dell'isola Tipo In modo che sia A modi Mini Castellino 1-1 Sempre Frellino Epico Qui Beh Grande Frellino Ti stimo Sei un mito Onore a te Dammi le mele Ho finito le mele Pezzo di merda E Allora Come funziona Praticamente i villager Per chi non lo sapesse Si Riproducono In base alle porte Non so Avranno un feticismo strano Per tutte cose Non chiedetelo a me Non lo so Per essere più tecnici Si riproducono quando ci sono delle case Con un tot di case Loro possono avere un tot di bambini Di mini villagers Cos'è una casa? Una casa è Una porta Allora mettiamo caso che la cobblestone sia una porta Ok? Questa è la porta Una casa Per loro È questa Questa è la porta Quindi io entro da di qua E questi sono due blocchi Questo per un villager È una casa Quindi questa Per loro È tipo Una metropoli Della serie Perché c'ha 12 Per 4 48 case Ok? Ok Minchia 12 48 Per 6 Quanto cazzo Mi hai ne ho usato? 48 per 6 288 wooden planks Alla faccia Mi comerà anche portarmi un lettino qua Che dare una piccola casettina per me Perché fare ogni volta avanti e indietro è un po' una rottura Qui dentro ci andremo a mettere i villager Sponeranno a un certo punto anche dei golem Infatti questo è lo stesso principio della golem farm Della golem farm Bisogna creare una protezione per impedire ai villager di uscire E ai zombie e agli zombie di entrare Ho paura di lasciare qua le porte Perché magari Non lo so Arrivano i zombie in un raptus omicida E le abbattono tutte Però non dovrebbero prenderle Se le prendono Li ammazzo Con tutto il legno che ci vuole Però va bene Ok Il prossimo passo Sarà portare due villager all'interno Due villager E mentre noi costruiamo le mura Con magari anche qualche torre Perché mi avete detto di metterci anche qualche torre E penso ci possa fare figo Magari tipo Tipo una lì Una dall'altra parte Ma giusto un paio Non quattro Non due per lato Tipo solo due davanti Della serie E così Un attimo Ok Quindi ci mettiamo dentro il due villager E aspettiamo la riproduzione A bestia Mentre noi lavoriamo alle mura E in quel tempo Dovremmo arrivare Più o meno Nel re 5 6 villager Che è il minimo Il minimo indispensabile Per non fare un cazzo Perché bisogna avere Almeno 16 Tipo per far spawnare i mob I golem farm Però quello è giusto Un modo per farmare Per non portarli tutti a mano Dal villaggio Perché portare tutti a mano dal villaggio Ci vuole Tanto tempo Tanta pazienza Cose che io Non ho al momento E mai avrò probabilmente Quindi allora Bisogna impostare Una rotaia E intanto bisogna andare A mangiare qualcosa Qua Non so quanto Quanto pollo ci sia Perché non ci sono stato Vabbè Due Ehm Non dovrei aver patate qua Purtroppo Let me see Infatti C'ho meno del gra Che cazzo Perché ho buttato l'ascia Vabbè Quindi Oddio Ho mangiato un budino E cacao Fatto in casa Stamattina Mi sta tutto sullo stomaco Budini di merda Ehm Ehm Ah questo Lo dovrei togliere o no Perché Non è per forza Un albero di Natale Se uno ci pensa Potrebbe anche essere Una cosa decorativa No Molto scialla Quel posto era anche vuoto Direi fanculo Lasciamolo Cattivi Perché questo Questa cosa è Sta mafia contro gli alberi No Ok Lasciamo stare Allora O lo porto con la canna alla pesca Come avete suggerito Però non lo so Dovrei provare tipo in creative Come cazzo funziona sta roba Della canna alla pesca Anzi Andiamo a provarlo assieme Creativo Ok Mondo creativo Allora Allora si fa spawnare Un villager 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 Si prende una Ehm Fishing rod E si entra in O che cazzo era Game mode Zero Yes Ok Merda Oh cazzo Ecco Quando io faccio così Me lo porta via Ah Dove fare così E male funziona Ecco Di sicuro E' più economico Di utilizzare Vieni qua Vieni qua Su cactus Vieni qua L'unica cosa che finisce Stare in fretta Ah vabbè Questi erano altri design Per la cactus farm Che abbiamo provato in live Ma alla fine Quello che abbiamo No Quello del nether Quello Abbiamo utilizzato quello Alla fine Comunque Si Devo solo vedere Se funziona in mare Perché non voglio rischiare Di Perdere il villager Perché vuol dire Tanto lavoro in più Ok Ok Il tempo per oggi Sta finendo Quindi non ce la faccio Ad impostare La La rotaia Per far tutto Anche perché non ho più rotaia Dove andare a prenderle Dal nether Spostarle qui O dovrei craftarle con il ferro O dove andare a prenderle miniera Ma non ho tempo Allora Quindi parliamo un po' Delle mura Perché Allora Io contavo di farle Come vi ho detto Con le due torri Tipo una torre lì E una torre lì Serrebbero le torri Piuttosto Bassine Perché dovrebbero essere in proporzione Alle mura Alle mura Conto di farle Non so Tre Quattro blocchi Aspetta Una barca come No Shit Conto di farle Tre Quattro blocchi Massimo Vorrei farlo A doppio strato Per Tipo Come si dice Fare un effetto figo Della serie Tipo Con del vetro Con dell'acqua Che scorre in mezzo Roba così No Oppure Delle classiche mura Con la cobblestone E con il legno da caccia Quello che abbiamo usato per il faro Che vedete lì A destra Perché come vedete È un contrasto davvero Fighissimo Il contrasto davvero È minimo È una combinazione Che ti fa Alla pale Ok E le mura Circonderebbero Tutta l'isola Quindi ci vorrebbe Un botto Di Legno Di roba E così Scusate Allora Un'altra cosa Il micelio Non so se Mi conviene Levarlo O Magari Anche Espanderlo Perché non sapesse Si può espandere Aggiungendo Della terra Normale Senza erba Tipo dell'erba secca Cazzo Della terra Senza erba Insomma Se tu metti La terra Senza erba Il micelio Si espande Stavo pensando Se fosse il caso Magari Dato che c'abbiamo Un po' Anche lì Di Fare Tipo Una zona Tipo Contaminata Che entra nel villaggio Magari La casa Dentro La parte Contaminata Tutta diroccata Fatta con il legno scuro Invece Le altre cose Sono fatte con il legno Chiaro Tutte vivaci Così no Ah lo so Molti di voi mi diranno Ma Surda Perché non usi il sistema Che ho usato per il trade Nella scorsa stagione Perché perché abbiamo bisogno Di tre villager Quindi intanto usiamo questo Per racciolare un po' Di villager Poi potremmo utilizzare quello Per farmare villager Alla vecchia maniera Cioè Alla vecchia maniera Alla maniera Più comoda Per noi Alla fine E niente Per questo episodio È praticamente tutto Quindi Niente Vi invito a rimanere Sintonizzati Perché probabilmente Nel prossimo episodio Passeremo I cosi I villagers E poi ci daremo La costruzione Delle Delle mura Naturalmente Se avete dei consigli Fatemelo sapere Tramite delle immagini Su facebook O merdate varie Oppure qua nei commenti Io leggo tutto Non rispondo quasi mai Perché siete davvero In tantissimi Però Leggo tutto E quindi sì Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio per la visione Vi aspetto al prossimo episodio Ciao Te lo dico a tutti Ciao